D'ora in poi, anche in Calabria, così come accade in altre regioni d'Italia, i farmaci a base di cannabis saranno a carico del servizio sanitario. Il Consiglio regionale ha approvato la legge per la soddisfazione del primo firmatario, ovvero il capogruppo in Consiglio regionale di De Magistris Presidente, Ferdinando Laghi. Sono anche, per la verità, soddisfatto del clima interno che ha portato alla compilazione e al supporto di questa mia legge, che ha trovato in tutti i membri della Commissione Sanità, la terza Commissione permanente regionale, una sottoscrizione e l'attenzione particolare del Presidente Michele Comito. E altresì anche il Presidente, l'On. Antonio Montoro, il Presidente della seconda Commissione, quella bilancio, ci ha dato una mano per valutare, quindi affrontare i problemi economico-finanziari della legge. Quindi in un'ottica di partecipazione, di impegno condiviso, che trattandosi di una legge che va a tutelare la salute dei calabresi, è stata auspicabile ma non era certamente scontata. Ricordiamo che i farmaci a base di cannabis funzionano da antidolorifico, ma sono efficaci anche per altre patologie. Per un amplissimo numero di patologie, di malattie, dal dolore neurologico cronico alla spasticità dolorosa, all'anoressia nervosa, ai problemi collegati alla polichemioterapia, a disturbi oculari. Quindi davvero alla fibromialgia una sequela e una sequenza di malattie numerosissime. E questo intervento va anche a, come dire, a equilibrare un disequilibrio, una odiosa diversificazione fra chi con queste malattie finora poteva permettersi di curarsi perché poteva autonomamente acquistare il farmaco e chi invece, non avendo questa possibilità, era costretto a subire l'insulto del dolore, della patologia o addirittura tentare di affrancarsene magari coltivando poche piantine di cannabis per uso personale e terapeutico. Grazie a tutti.